Come promesso oggi si continua a pullà Perché si quando si fa una scommessa e quando chiedi che i like devono superare 500 entro mezzanotte E poi li superano effettivamente anche prima di raggiungere mezzanotte Allora lei capisci che anche questo video deve superare almeno 500 like Se no va bene Ragazzi ora a parte gli scherzi mi raccomando lasciate subitissimo un bel like E ovviamente recuperate tutti gli altri che ritrovate qua sopra al termine di questo Detto questo buona visione E ragazzi come voi sono tizioni e bentornati oggi sul go No siamo sul japp Ragazzi oggi come promesso nel video di ieri Perché se ieri per appunto ho chiesto come ho detto nei 30 secondi iniziali Ma se non lo ripeto non sono contento Come ho detto nel video di ieri Sì Se quel video superava i 500 like entro mezzanotte Continuavamo a pullare sul mio mio racconto japp Alla ricerca del nuovissimo Goku Super Saiyan LR Esatto ragazzi oggi siamo qua a continuare Per continuare la ricerca del nuovissimo Goku Super Saiyan LR E mi raccomando ragazzi voglio il supporto massimo Voglio che spacca questo video al massimo E tra l'altro piccola chicca A fine video non ci sarà più la classica intro Perché da questo video voglio innovare un attimino E cambiare totalmente l'outro Quindi ragazzi oggi mi raccomando Forse ho detto intro ma sbaglio sempre su questo Ma mi conoscete Quindi sì ragazzi oggi ho fatto una nuova outro Spero davvero che vi piaccia Probabilmente tempo al tempo E detto questo possiamo andare a vedere subitissimo Il banner perché sì Come per il discorso di Goku Blue Kai Se iniziate a vedere questo video come primo video Sulla batch di Goku Super Saiyan Vaffangala Spacco sempre il microfono Se vedete questo video come primo video Sulla batch di Goku Super Saiyan Mi sembra più che è scontato Che il video fa vedere i banner Perché questo banner puzza così tanto Che puzza così tanto Cioè questo banner fa schifo ragazzi Come ho detto nel video di ieri È un banner completamente penoso Unica carta che voglio Ovviamente al 100% E che non ci voglio un genere Per capire che ieri non l'ho trovato Goku Quindi piccolo spoiler Se vi siete persi il video di ieri Tanto il mio cane Se accinge a mostrarci il culo Che grazie cane Quindi sì Unica carta che ci interessa E questo Goku Il resto è pura Mera Veramente schifezza Assoluta Sarà ancora una volta Questo è il tuo video Trax ovviamente non ci interessa Questo manco per il ca Questo Vabbè Ragazzi Io non ve lo sto neanche a dire Il banner è pura schifezza Atomia Cioè Non c'è veramente niente da dirgli Se siete F2Play Ci ho fatto i video riguardo ragazzi Gli è l'altro Quindi se vi lo siete persi Lo ritrovate Qua sopra nelle schede Ma di per sé L'unica cosa buona Di questo banner È che ci sono Double rate DSSR Quindi double rate DLR Il resto È uno schifo Parlamoci chiaramente È uno schifo Ragazzi Alla idea di partire subito Con un po' di singolette Abbiamo quattro singole A disposizione Poi partiamo con Molti summon Speriamo di qualcosa di figo ragazzi Tiene Ciao Prima singola Attenzione ragazzi Attenzione Potrebbe essere Nell'R Non scudo Perché comunque È un'animazione In cui può uscire Nell'R Non vedo il motivo Per cui non potrebbe uscire Nell'R Guardiamo l'attività ragazzi Cosa ci esce Vegeta Bello schifo Se mi usciva Cioè Se mi usciva Ragazzi In singola Ribaltavo la sedia Sul letto Ribaltavo il letto Ribaltavo la sedia Sul letto Andiamo avanti ragazzi Sì Alla fin fine ci sta Prima singoletta Prima SSR Come ieri Non vi fa spoiler Ma anche ieri Prima singola SSR Prossima singoletta ragazzi Vediamo un po' di animazione C18 Majin Bu Mi è interessato Non lo vedo Da così tanto tempo Che comunque penso Che l'abbiano tolto dal gioco Cioè davvero È veramente tanto Che Non Che merda È così tanto ragazzi Che non lo vedo Che è veramente brutta La cosa Comunque Super Saiyan Niente Super Saiyan Perdonatemi Go SSR Davvero Perdonatemi Comunque Unica cosa Che per i fit to play Sconsiglio davvero Ed è un altro modo Un attimino Per dirvi Che i fit to play Non devono pulare Su questo bacio È il fatto Che i Rises In generale Non danno I coin gialli Quindi Un attimino Una pecca assoluta Una pecca estrema Dere il vero Perché Coin gialli Fanno tantissimo Comodo La differenza di Blue Rispetto ai dei Kai Che Che I Kai O un LR I Kai Continuiamo ragazzi Ultima singola Bigi giornata Poi andiamo Con le multisummon Mane al cielo Tutti insieme Voglio mostri Oh Vegeta E Whis Oh Attenzione Non succederà mai niente Già me lo sento Non succederà mai Nulla di nulla ragazzi Ma se c'è Whis Animation Oh Oh Infatti è vero 4PG E SSR Ragazzi Quindi non possiamo Dire nulla Riguardo Oh Che bello Io speravo Nella Whis Animation Che ti possa Venire A dire A parte gli scherzi Ragazzi Ora puliamo Veramente Per la roba grossa Multisummon Goku Viene a me Unica e l'aria Che voglio Da questo video E Goku Non chiedo altro Ragazzi Prima multi Con Trunks Vegeta E Yamcha Dammi subito Un bel Visito Animation Io chiedevo Solo nelle R Però Uno Dammi a me Il double Ti prego Niente double Niente double Io sto video C'ero Andiamo avanti Andiamo avanti Ragazzi Ho bisogno Di bello Ogni tanto Perché Quando vedo Steppy Mi sento Veramente Salire Un po' Il pazzerello Di dare Tutto Dal babba Bu Ok Vegeta Che belle Ste multi Vi giuro Sono proprio Quelle belle Proprio le multi Che Quando puli Vuoi Vedere Un Bu Un Zamasu Un Kid Bu Ok Dove andiamo avanti Andiamo avanti Prossima multi Summon Io non ve lo sto neanche a D Mi sta prendendo male Ma veramente male Animazione C18 Kili Infiammi tutti EPG Banner Dammi anche LR Enter Vigito Animation Comunque PG Banner Comunque PG Banner Super Zan 1 Oh mio Dio Dammi il Cracker Screen Niente Cracker Screen PG Banner Ragazzi Ho paura Io ho paura Ho paura Troppo Questo Omega Questo C'è C'è Ho paura Perché Quello PG Banner Aspettate Super Zanone Può essere Banner SR No Ditemi di no Ditemi di no Ditemi di no Ragazzi Cioè Ditemi di no Davvero C'è Non lo posso vedere Stero Non lo posso vedere Dammi l'LR Una Chi c'è Cosa Retrax Può essere l'LR Speriamo Release Rainbow Base Form Double crack Double crack De mica Double crack De mica Double crack Thank you Dragon Balls Dammi il double Niente Double Non è l'LR Ditemi Ditemi Killer Go on Visita No E' Banner Questo Io sto Smattando E' Banner Questo è Banner E' Banner Quello era Banner Vero Era Banner Oh mio Dio Quello era Banner Non lo so che era Banner Ma io voglio No No Questo non è Banner Questo non è Banner Però voglio un LR Banner Non voglio un LR Ragazzi Non chiedo tanto Ok ho fottuto LR Super Saiyan Cos'è sta roba Caroli Mio Dio No raga Raga Sto smattando Sto smattando No 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 Voglio 7000 like Per questo video Voglio 7000 like Perché se non subiremo 7000 like Smatto Smatto di brutto Ragazzi Perché appo 7 bicchieri E li vengo In 7 muri diversi Ragazzi Allora Dove possiamo molti Eh Sai doc Non so se dobbiamo Fasculare L'animazione Da LR C'è Vegeta Con 4 pc di Di Maria Rizzo Super Saiyan Almeno il Vegeta Animation Ce l'ha fatto uscire Il blu Ce l'ha fatto uscire Dammi LR Dammi LR Dammi Goku LR Non chiedo Non chiede Se non mi voglio All'1.6% Di rate Per il Goku 1.6% Se non vado Errato ragazzi Non Se mi dai Mageta Guarda Io Sbarbo Ogni concetto Della storia E lo Vergo in questo video Ti prego Non chiedo Tanto Chiedo Per il Goku Mamma mia Pensavo fosse Transphysio LR Si mesce Transphysio Ragazzi Sbrocco Sbrocco No no Ho un'ansia Ragazzi Ho un'ansia Ragazzi Dammi Goku LR Quello bello Go Spersian Dammi Go Spersian Dammi Go Oh mio Dio Che ansia Ne ci sono queste cose No No È Fulability No Ma te sei serio No Ma te sei serio No Ma te sei fottutamente serio No No Regà Io sto smattando No No Regà No Oltre a multidigitonata Penso di non ci tornare sopra Dammi un'animazione bella Dammi un'animazione bella Terancio Zayam Può essere l'ultima volta Che possiamo sperare In un Goku Super Satelli Perché non penso Di tornareci sopra Su questa bacia Anche perché Danno i Coin Blue E sinceramente I Coin Blue Mi è proprio Schifo Gold Animation Addirittura Speriamo ci sia Goku Un 7 SSR Che sono un 7 SSR Dammi almeno Goku Una Mac Così una Mac Buonanotte E mi dà la receta È un PG Banner E sarà uno Eh 2 SSR Dammi il terzo Dammi il terzo SSR E sto contento Wow Perfetto Sono contento Possiamo chiudere sto video Tanto funziona così Tanto doccano Se non ti fa sfigare Per 7 video Non è contento Ieri ho scurato Che mi hai dato 2 LR Che non avevo Ma oggi ovviamente Mi dà le LR Che avevo già Funability Vero Bello 18 SSR Bellissimi Guardate che fanno La maggior parte Di queste SSR Perché oggi Mi sono veramente Sganasciato I cosiddetti Oggi Perché non è possibile Vedere una roba del genere Allora Guardate che bello Uno va subito Detto al Babashop L'altro va Al creatore E poi Vabbè Sì In realtà no Buttiamone solo uno Perché la penitenza Per il vero Tu con LR Buttiamone solo uno Non me ne fai da il cazzo Ragazzuoli Io ve lo dico Non penso di pularci oltre Su questo bacico Che bello Bellissimo Ma basta Non ci ho pulato Già 600 stone Quasi Non me ne Basta Basta Cioè Davvero Basta Io spero Comunque ragazzi Questi video Vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora Non l'avete fatto Campanellina Dissimi cosa ne pensate Della nuova outro Superviso un bel like E recuperate Tutti i video precedenti A questo Che ritrovate Qua sotto Ma anche I due video Che trovate Sicuramente Qua sotto Ragazzuoli Detto questo Iscrivetevi E Let's go boys Ciao a tutti Ragazzuoli